Signor Sindaco, come mai gli autobus di Apigia non vengono mai puntuali, sono sempre di ritardo e poi un'altra cosa, sempre sporchi, rotti, lei cosa pensa di fare? Cara Angela, hai ragione, a Bari il trasporto pubblico era stato completamente abbandonato ma da 4 anni a questa parte le cose vanno un po' meglio. Abbiamo acquistato nuovi 79 autobus ecologici, 34 di questi sono a metano, ne stanno arrivando altri 24 per la pulizia abbiamo dato l'appalto ad una nuova detta perché quella vecchia non ci aveva soddisfatto naturalmente devi segnalare al numero verde dell'AMTAB tutte le disfunzioni e soprattutto eventuali limiti della pulizia in ogni caso su ogni autobus dovresti trovare attaccata a un finestrino una specie di tabella dove sono indicate le pulizie prescritte quotidiane, settimanali e mensili consulta quella tabella, eventualmente fotografala anche con il telefonino e poi se prendi sempre quella linea potrai controllare se effettivamente con la cadenza prescritta le pulizie sono state effettive, sono state ben fatte. Se dovessi trovare delle disfunzioni puoi comunicare queste disfunzioni all'URP del comune di Bari o allo stesso numero verde dell'AMTAB. Grazie per la collaborazione.